Massimo Girotti, 18 maggio 1918-5 gennaio 2003, è stato un attore italiano la cui carriera è durata oltre 60 anni, lasciando un segno indelebile nel panorama del cinema italiano. Nato a Mogliano, nelle Marche, la vita di Girotti è stata caratterizzata da una combinazione di risultati artistici e tragedie personali. Il viaggio di Girotti nel mondo della recitazione inizia negli anni 30 quando si scrive all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Le sue prime esibizioni sul palco attirarono l'attenzione per il suo talento grezzo, e presto passò al cinema negli anni 40. L'ingresso di Girotti nel cinema coincise con un periodo di trasformazione del cinema italiano, segnato dal movimento neorealista. Nel 1940 esordì al cinema con Quattro passi fra le nuvole di Alessandro Blasetti, capolavoro del neorealismo. La capacità di Girotti di trasmettere emozioni profonde con finezza e autenticità lo ha rapidamente affermato come una stella nascente nell'industria cinematografica italiana. Tuttavia, la carriera di Girotti dovette affrontare una battuta d'arresto temporanea durante la Seconda Guerra Mondiale quando si arruolò nell'esercito. Dopo la guerra, riprese la carriera di attore e divenne una figura chiave nell'era post-neorealista, passando a ruoli che riflettevano il mutevole panorama cinematografico. Negli anni 50 e 60 Girotti ha lavorato con alcuni dei registi italiani più celebri, tra cui Lucchino Visconti e Michelangelo Antonioni. Il suo ruolo in La terra trema di Visconti, 1948, e La notte di Antonioni, 1961, ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi a generi e stili diversi. Le interpretazioni di Girotti erano caratterizzate da una potente intensità che aggiungeva profondità ai personaggi da lui interpretati. Nel mezzo del suo successo professionale, Girotti ha dovuto affrontare tragedie personali che hanno aggiunto strati di complessità alla sua vita. Nel 1957 sua moglie, l'attrice Valentina Cortese, che aveva sposato nel 1949, subì un incidente stradale quasi mortale. La guarigione di Cortese divenne un punto centrale per Girotti e l'incidente servì a ricordare la fragilità della vita e l'imprevedibilità del destino. Nonostante le sfide, la carriera di Girotti ha continuato a prosperare. Ha lavorato con registi internazionali, tra cui Jean-Luc Godard e Andrei Waida, consolidando ulteriormente la sua reputazione di attore versatile e affermato. Le sue collaborazioni con Godard in film come Contemp, 1963, hanno dimostrato la sua capacità di destreggiarsi tra personaggi complessi nel contesto di stili cinematografici in evoluzione. Gli anni 70 videro Girotti ritornare al teatro, mettendo in mostra il suo impegno per l'arte della recitazione in varie forme. La sua dedizione sia al palcoscenico che allo schermo ha evidenziato la sua duratura passione per le arti. Massimo Girotti affrontò un'insondabile tragedia nel 1979 quando la sua vita fu sconvolta dalla morte improvvisa e devastante di suo figlio, Cristiano Girotti. Questa profonda perdita segnò un capitolo oscuro nella vita dell'attore, lasciando un'impronta indelebile nel suo cuore e rimodellando il tessuto della sua esistenza. Cristiano Girotti, nato nel 1956, era un giovane olapice dell'età adulta quando il destino gli ha messo una mano crudele. Nel 1979, all'età di 23 anni, Cristiano perse la vita in un tragico incidente stradale. Le circostanze dell'incidente furono strazianti, poiché la vita promettente dell'unico figlio di Massimo Girotti fu interrotta, lasciando la famiglia alle prese con il dolore e un vuoto incolmabile. La notizia della morte di Cristiano ha avuto eco non solo nella famiglia Girotti ma anche nella comunità più ampia. Massimo Girotti, che aveva interpretato una miriade di personaggi sullo schermo, ora si ritrovava coinvolto in un dramma di incommensurabile dolore nella vita reale. Il dolore della perdita di un figlio, soprattutto in circostanze così improvvise e traumatiche, è un peso che nessun genitore dovrebbe sopportare. Il profondo impatto della morte di Cristiano è stato evidente nella personalità pubblica e nel lavoro artistico di Massimo Girotti. Mentre l'attore continuava a perseguire la sua carriera, il bilancio emotivo della tragedia gettava una lunga ombra. Le performance di Girotti hanno acquisito una profondità e un'intensità che riflettevano il peso del dolore personale, consentendo al pubblico di testimoniare le emozioni crude e autentiche di un padre alle prese con la perdita. La famiglia Girotti, già segnata dalla tragedia per il precedente incidente che aveva coinvolto la moglie di Massimo, Valentina Cortese, si trova ora ad affrontare un secondo colpo devastante. Il dolore condiviso è diventato un crogiolo che ha messo alla prova la resilienza, l'unità e la forza collettiva della famiglia di fronte a un dolore inimmaginabile. Affrontare la perdita di un figlio è un viaggio carico di angoscia, e Massimo Girotti ha attraversato questo terreno doloroso con coraggio e vulnerabilità. Il processo di lutto divenne parte integrante della sua vita, influenzando la sua prospettiva sia sulla natura transitoria dell'esistenza che sul potere duraturo dell'amore e della memoria. Il percorso professionale di Massimo Girotti è continuato, segnato da un rinnovato senso di scopo e da un legame più profondo con le sfumature emotive dei personaggi da lui interpretati. Le sue performance, già note per la loro intensità, ora apportavano un ulteriore livello di autenticità, fornendo uno sguardo nell'anima di un uomo che aveva sperimentato la profondità del dolore dei genitori. Negli anni 90, Massimo Girotti ha vissuto una rinascita della sua carriera con ruoli in film come Il furto dei bambini, 1992, e La meglio gioventù, 2003. Queste performance di fine carriera hanno affermato il suo status di figura venerata nel cinema italiano. Massimo Girotti è morto il 5 gennaio 2003, all'età di 84 anni, a Roma, in Italia. La sua eredità continua a testimoniare il suo contributo al cinema italiano, caratterizzato da una profonda capacità di trasmettere la complessità dell'esperienza umana. La vita e la carriera di Massimo Girotti sono state un mosaico di trionfi e tragedie, fondendo risultati artistici e sfide personali. Le sue interpretazioni continuano ad essere celebrate per la loro autenticità e profondità emotiva, riflettendo l'eredità duratura di un attore straordinario che ha navigato nelle correnti in continua evoluzione del cinema italiano con grazia e resilienza.